allora proviamo la praticità per toglierlo è molto semplice tac 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 via tolto e per rimetterlo è altrettanto semplice basta agganciare il primo del cro e poi se lo va a prendere da solo e si attacca quindi tutto molto easy vuole veramente un secondo sia toglierlo che rimetterlo coperta molto molto funzionale